Prova valida, bilanciere a chilogrammi 31. Per la prima prova dell'atleta Serra Veronica, della Bentegodi, si prepari di fresco. Prova valida, bilanciere a chilogrammi 32. Per la seconda prova dell'atleta Serra Veronica, si prepari Dovier. C'è un passaggio, bilanciere a chilogrammi 35. Per la prima prova dell'atleta Dovier Gaia, si prepari Murtas. Per la prima prova dell'atleta Serra Veronica, si prepari Murtas. prova valida bilanciere a chilogrammi 35 per la seconda prova dell'atleta di fresco Francesca si prepari Serra c'è un passaggio bilanciere a chilogrammi 35 per la seconda prova dell'atleta Serra Veronica si prepari Dovier Serra Veronica seconda prova 35 chilogrammi riscaldi Allora prova valida bilanciere a chilogrammi 36 per la terza prova dell'atleta Serra Veronica si prepari Murtas c'è stato un passaggio bilanciere a chilogrammi 37 in pedana Murtas Veronica seconda prova si prepari di fresco prova non valida bilanciere a chilogrammi 37 in pedana di fresco Francesca seconda prova si prepari Serra prova non valida bilanciere a chilogrammi 37 per la terza prova dell'atleta Serra un altro passaggio bilanciere a chilogrammi 37 terza prova per Murtas Veronica si prepari di fresco prova valida bilanciere a chilogrammi 37 per la terza prova di fresco Francesca si prepari Dovier prova non valida prova non valida bilanciere a chilogrammi 38 seconda prova non valida seconda prova dell'atleta Dovier Gaia si prepari Serra grazie a la tua prova valida bilanciere a chilogrammi 38 per la terza prova dell'atleta Serra Veronica Bentegodi si prepari Dovier Dovier prova valida bilanciere a chilogrammi 40 per la terza prova dell'atleta Dovier Gaia mio sport si prepari Capozzi 40 chilogrammi per la terza prova dell'atleta Dovier Gaia si prepari Capozzi grazie a tutti 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 prova valida bilanciere a chilogrammi 43 per la prima prova dell'atleta Popescu Crina si prepari Giuttari grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti prova valida prova valida grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti prova valida prova valida prova valida bilanciere a chilogrammi 44 per la seconda prova dell'atleta Popescu Crina Exairo si prepari Giuttari c'è un passaggio bilanciere a chilogrammi 44 in pedana Giuttari Vittoria Exairo si prepari Greco ancora un passaggio bilanciere a chilogrammi 45 in pedana Greco Antonella prima prova si prepari Capozzi ancora un passaggio bilanciere a chilogrammi 45 Capozzi e Amelia in pedana per la prima prova si prepari Belperio che Grazie. Prova non valida, bilanciere a chilogrammi 45 per l'atleta Popescu Crina Exairo, seconda prova, si prepara i capozzi. Prova non valida, bilanciere a chilogrammi 45 per l'atleta Popescu Crina Exairo, seconda prova. Prova si prepari Belperio. Prova valida. Prova valida, bilanciere a chilogrammi 46 per la prima prova dell'atleta Belperio Desiree Royal Gym, si prepara i capozzi. Prova valida, bilanciere a chilogrammi 46 per l'atleta Popescu Crina Exairo, seconda prova. Prova valida, bilanciere a chilogrammi 46 per l'atleta Popescu Crina Exairo, seconda prova. prova non valida, bilanciere a chilogrammi 46 per la seconda prova dell'atleta Belperio Desiree, si prepari Greco. C'è un passaggio, bilanciere a chilogrammi 47 per la prima prova dell'atleta Greco Antonella. si prepari Iorillo. Prova valida, bilanciere a chilogrammi 47 per la prima prova dell'atleta Belperio Desiree. prima prova dell'atleta Iorillo Gemma, si prepari Belperio. e poi la prima prova dell'atleta Belperio Desiree, si prepari a te. 47 c'è un passaggio bilanciera chilogrammi 47 Belperio Desiree in pedana per la seconda prova si prepari Giuttari prova valida bilanciere a chilogrammi 48 48 per la seconda prova dell'atleta Giuttari vittoria si prepari Greco prova valida bilanciere a chilogrammi 48 per la terza prova dell'atleta Popescu Popescu Crina ex aero si prepari Belperio Desiree prova non valida bilanciere a chilogrammi 49 per la terza prova dell'atleta Giuttari vittoria si prepari Cuciniello c'è un passaggio bilanciere a chilogrammi 50 per la prima prova dell'atleta Cuciniello Cuciniello Alessia pesistica Pordenone si prepari Greco di un'atleta Cuciniello per la terza prova prova valida prova valida bilanciere a chilogrammi 50 per la seconda prova dell'atleta Greco Antonella pesistica Radeo si prepari Capozzi no prova valida valida bilanciere a chilogrammi cinquanta per la terza prova dell'atleta Capozzi Amelia Royal Gym si prepari Belperio Desirè il nostro corso gratuito Prova non valida, bilanciera a chilogrammi 50, per la terza prova dell'atleta Belperio Desiree, si prepari Greco. Prova non valida, bilanciera a chilogrammi 50, per la terza prova dell'atleta Greco Antonella, pesistica Radeo, si prepari Iorillo. Prova valida, bilanciera a chilogrammi 51, per la prima prova dell'atleta Iorillo Gemma, si prepari Giuttari. Per la terza prova di più 50, per la terza prova di più 50, Grazie a tutti Prova non valida Bilanciere a chilogrammi 51 Per la seconda prova dell'atleta Iurillo Gemma Royal Gym Si prepari Giuttari Per la seconda prova dell'atleta Iurillo Gemma 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 Si prepari Cuciniello Per la seconda prova dell'atleta Iurillo Gemma prova non valida bilanciere a chilogrammi 52 per l'atleta Cuciniello Alessia Pesistica Pordenone seconda prova un passaggio ancora 53 chilogrammi per l'atleta Iorillo Gemma seconda prova della Royal Gym si prepara il Cuciniello in pedana Iorillo Gemma seconda prova prova valida bilanciere a chilogrammi 54 per la seconda prova dell'atleta Cuciniello Alessia Pesistica Pordenone si prepara Iorillo Gemma non c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è un passaggio, bilanciera chilogrammi 54, in pedana Cuciniello Alessia, terza prova, si prepari Miserendino. Grazie a tutti. Prova non valida. Bilanciere a chilogrammi 55, per l'atleta Vinci Guerra Isabella Tomei Livorno. Prima prova, si prepari Iurillo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prova valida. Prova valida. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prova non valida. Bilanciere a chilogrammi 56, per la prima prova dell'atleta Miserendino Giulia. ci prepari Vinci Guerra. Grazie a tutti. Prova valida. Prova valida. bilanciere a chilogrammi 57, in pedana Miserendino Giulia. seconda prova. Seconda prova. Seconda prova. Seconda prova. va si prepari Miserendino. No. va si prepari Miserendino. Seconda prova. prova valida. Prova valida. bilanciere a chilogrammi 60, in pedana Miserendino Giulia. seconda prova. seconda prova. prova valida. Prova valida. bilanciere a chilogrammi 61, per l'atleta Vinci Guerra Isabella. terza prova. si prepari Vinci Guerra. c'è un passaggio 61, in pedana Miserendino Giulia. terza prova. si prepari Vinci Guerra. un passaggio. bilanciere a chilogrammi 62, in pedana Vinci Guerra Isabella. terza prova. si prepari Miserendino. bilanciere a chilogrammi 62, in pedana Miserendino. terza prova. bilanciere a chilogrammi 62, in pedana Miserendino. terza prova. bilanciere a chilogrammi 62, in pedana Miserendino. bilanciere a chilogrammi 62, in pedana Miserendino. terza prova. Fryendino, penana Miserendino. Av musei le來到 calendar yang oke. bilanciere a chilogrammi 62, in pedana Miserestandino. Astri damm şimdi 61. Onwor hua inferno. And gripele a chilogrammi 62, in pedane Miserendino. Bilanciere a chilogrammi 63, in pedana Miserendino Giulia, i Iron Efit, terza prova, si prepari Piccino. Bilanciere a chilogrammi 63. Per la prima prova dell'atleta Piccino Chiara, pesisti Caradeo, si prepari Carloni. Bilanciere a chilogrammi 63, in pedana Miserendino Giulia, si prepari Prova valida. Bilanciere a chilogrammi 70, 70 per la prima prova dell'atleta Carloni Rebecca, Tomei Livorno. Carloni Rebecca, prima prova 70 chilogrammi, si prepari Piccino. Si prepari Piccino. Prova valida. Bilanciere a chilogrammi 70, in pedana Piccino Chiara, seconda prova, si prepari Carloni. Prova valida. Bilanciere a chilogrammi 71. 71 per la terza prova dell'atleta Piccino Chiara. Si prepari Carloni. C'è un passaggio. Bilanciere a chilogrammi 73. In pedana Carloni Rebecca, Tomei Livorno. Seconda prova, si prepari Piccino. Pileda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In pedana Piccino Chiara per la terza prova si prepara i Carloni. Grazie a tutti. Prova valida. Questa prova ha segnato un altro record. Bilanciera a chilogrammi 73 per la terza prova dell'atleta Carloni Rebecca Tomei Livorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prova non valida. Prova non valida. Allora ci sarà adesso la premiazione. Ci sarà la presentazione degli atleti delle categorie successive. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.